Buongiorno e buon caffè. Mi hanno fatto i complimenti per la mia libreria, questa è solo una parte e allora mi diverto a farvela vedere tutta in questo caffè, quindi avete doppia lettura. E lettura direi che è proprio il verbo, anzi il sostantivo corretto. Vorrei parlarvi di muri di fotografie, cioè di capacità di guardare al futuro. Leggevo qualche giorno fa sul Corriere una notizia di una scuola, di una mostra, credo negli Stati Uniti, mi sembrava che si riferisse al MoMA ma non vorrei sbagliarmi, o alla Tate Gallery, comunque qualcosa che è fuori dai nostri confini, Tate Gallery tra l'altro non è negli Stati Uniti ma ci siamo capiti. Cioè il criterio di esporre in questo caso un muro di fotografie con la vita di una scuola. E mi vorrei soffermare proprio sulla lungimiranza, perché quando cominci a raccogliere fotografie hai la prima, è il primo anno, la prima foto, che sia una scuola, che sia un'alba, che sia il giorno in cui ti trovi, che sia un selfie, stai cominciando a raccogliere qualcosa, una prima fotografia. Che è molto diverso, che cominciare a raccogliere quando hai già una storia alle spalle e quindi quando puoi andare a recuperare il passato. No, perché magari quelle le hai perse, le hai perse definitivamente, è dalla prima che cominci. E se cominci con la prima vuol dire che hai veramente un sacco di speranza, un sacco di sogni, veramente hai lungimiranza. Cioè stai realmente pensando di poter cambiare il mondo, di poter lasciare un segno, di poter incidere, di poter veramente un giorno costruire un muro, forse un'intera stanza, forse un intero museo pieno di fotografie che raccontino la tua storia. Che sia di una scuola, che sia di una persona, che sia di un'azienda, qualunque cosa sia, ma tu puoi raccontare una storia perché l'hai costruita passo dopo passo. Ed è interessante perché allora vuol dire che ci credi realmente in quello che fai. Hai veramente un sogno che stai portando avanti con grande attenzione, che stai portando avanti con grande capabilità, che hai realmente costruito perché quello che stai facendo è come accumulare libri in una libreria e mettere una pietra dietro l'altra all'interno di una storia che può fare la differenza. Questo vuol dire veramente avere fiducia in se stessi. Ripeto, qualunque cosa sia, può essere un'azienda, qui stiamo parlando di ambiente professionale, può essere una scuola, parliamo di educazione, può essere una famiglia, può essere una persona, ma qualcuno che realmente crede in sé e che ha la convinzione che nonostante le proprie debolezze, le proprie fragilità, i propri inizi piccoli piccoli, come dei piccoli semi che si seminano all'interno di un mondo che ha ancora tutto da costruire, di un campo che è deserto, beh, io ho la certezza e la tranquillità che potrò in qualche modo fare la differenza, che potrò lasciare un segno, che potrò magari, come in questa vetrinetta che è una delle tante qui nel corridoio, segnare alla fine una storia, una tradizione, raccontare qualcosa che un giorno avrà un senso. Che qualità ci vogliono per poter fare tutto questo? Che qualità dobbiamo avere per poter credere in questo? In che modo pensiamo di poter realmente fare la differenza? Cosa deve legarci? In che modo dobbiamo essere legati al futuro, ma anche al presente? In che modo possiamo realmente appendere fotografie sul muro, avendo la speranza che un giorno qualcuno tornerà a vederle? È la domanda che lascio come sempre a voi. Io per oggi vi saluto con questo caffè, vi do appuntamento a domani per un altro caffè, se avete piacere di tornare a vederlo, e come sempre vi invito a visitare la pagina paolopuni.it. Buongiorno!